Gabriella Ghigi, Meeting Consultants e responsabile del progetto Food for Good. Quindi due anni fra pochi giorni dalla nascita di Food for Good, qual è il risultato di questo biennio di progetto per il recupero del cibo non consumato durante gli eventi? Sono stati due anni entusiasmanti di un'esperienza che è veramente carica di passione da parte di tutti noi e soprattutto carica di senso e di significato. La collaborazione di Banco Alimentare Onlus e di Ecoevento Onlus, oltre al coordinamento di FederCongressi, ci ha permesso di coinvolgere già parecchie strutture, parlo di centri congressi, ma anche agenzie di organizzazione, congressi ed eventi, e di recuperare già oltre 53 mila piatti pronti, preparati, di ottimo cibo, che è stato portato e utilizzato in mense caritatevoli, in case famiglia, oltre a pane, frutta, eccetera. Siamo solo all'inizio di un percorso, un percorso che vuole arrivare al 100% degli eventi che si organizzano in Italia, quindi a non buttare nulla, nulla di quello che può essere ancora buono, che può essere due volte buono ed essere mangiato, quindi nutrire delle persone che ne hanno bisogno.